Non c'è nulla a fare, ogni volta che si frigge diventa tutto più buono e goloso. Ma poi c'è il problema dell'olio usato da smaltire, perché lo sanno tutti che non si butta né nel lavandino né nel WC, perché è ad alto impatto ambientale e poi crea un sacco di problemi alle fognature. Quindi come lo gestiamo? Togliendo tutti i residui, se non brucia l'olio può essere riutilizzato un paio di volte, non di più. Dopodiché io mi sono organizzata con dei barattoli, vecchi barattoli di vetro, dove metto l'olio e poi vado a conferirlo ogni tot all'isola ecologica. E la stessa cosa la dobbiamo fare anche con l'olio che è avanzato in padella dopo le colture, ma anche quello delle scatolette, dei sottoli. Insomma, l'olio fritto o non fritto non si butta, si recupera e si ricicla.